Io ne ho discusi tanto con l'allora Ministro degli Interni, mio collega di movimento politico Roberto Maroni, la tessera del tifoso, anche qua ogni tanto ho detto qualcosa che ha fatto polemica, qua siamo passati dall'anarchia generalizzata, dal caos generalizzato dove volavano i motorini dal secondo anello a San Siro a il fatto che è più facile entrare alla NASA che in uno stadio, però c'è un limite, qua la politica deve intervenire normando, non punendo, ma normando la giungla dei procuratori e c'è un giro di denaro con triangolazioni Italia-Estero che è imbarazzante e a parità di merito di ragazzini è più conveniente andare a prendere il ragazzino a mille chilometri perché là puoi avere un ritorno economico che da Roma non c'hai, sono cose che se dici boom apriti cielo, ma sono cose che sa chiunque.